Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di una nuova collaborazione che ho iniziato da un paio di settimane e di cui ovviamente sono contentissimo e molto onorato, con 3D Breed Miniatures che trovate ovviamente il link in descrizione. E sono un gruppo di modellatori 3D che fanno delle miniature davvero di una qualità spettacolare che poi le vedete qui davanti ma ve le farò vedere nel corso del video. Qui è una piccola rappresentante, insomma piccola giusta, di pedine della loro versione West e sono un gruppo di appunto modellatori 3D che tramite il loro sito potete acquistare gli STL, solo STL e poi farvele stampare in plastica o meglio per il massimo del dettaglio in resina. Ripeto, loro vendono soltanto gli STL, quindi non vi aspettate di comprare le miniature e quelle ve le dovete stampare a parte. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. 3D Breed Miniatures che molti di voi già conosceranno, soprattutto chi tratta più che board game tratta war game, sono molto conosciuti perché sono degli artisti che hanno fatto varie ambientazioni, praticamente hanno un po' di gusti per tutti e addirittura ora stanno spaziando anche un pochino nel genere fantasy. Si parte dalle guerre dell'antica Roma, del mondo ellenico di Alessandro Magno o le guerre persiane, come potete vedere ora a video, e quindi potrete andare a riprodurre le vostre guerre contro ad esempio Cartagine, le guerre puniche, l'invasione di Cesare della Britannia, la battaglia di Salamina, la battaglia delle Termopili, la battaglia di Gaugamela, di Alessandro Magno, quindi comunque potrete riprodurre tantissime battaglie, ad esempio se vi piacciono, in ambientazione Giulio Cesare o comunque mondo antico. Tra le miniature, tra la scelta, addirittura la seconda guerra mondiale, o il vecchio West, come vedete la rappresentanza qui. La parte Western che potete vedere qui davanti in questa rappresentanza di miniature c'è tutto, quindi indiani, o per meglio dire nativi, banditi, banditi messicani, classici col sombrero e il mariachi, oppure personaggi famosi o usciti dai film, addirittura hanno fatto miniature che ora vedrete a breve video di Trinità, Terence Hill, sono dei tributi, bambino, sempre dalla parte di Bud Spencer, o anche personaggi di altri film come ad esempio il Monko, interpretato dal grandissimo Clint Eastwood, o comunque altri personaggi famosi, pistoleri e tutto quanto, ma anche truppe del settimo cavalleria, ballerine, quindi anche a livello di civili, tombaroli, ve l'ho detto briganti, fuori legge, soldati, chi più ne ha più ne metta, se volete tirare fuori delle miniature non soltanto per un wargame, e ci sono svariati regolamenti su cui poi voglio fare anche divida a parte, alcuni anche addirittura gratuiti e bellissimi, ma ve ne parlerò in un prossimo video, che anche giochi di miniature, o perché no, magari vi fate una partita a Deadlands, avete bisogno di riprodurre un tavolo in 3D, e le miniature di 3 breed sono spettacolari, secondo me ci stanno perfettamente. O per fare un altro esempio, potete andare nel medievale o anche la guerra del Vietnam, non è facile trovare un gioco di miniature che spazi sulla guerra del Vietnam, anche perché i wargame sono giochi dove si vanno a fare battaglie. Ok, ora leviamo l'Ouest, comunque sconti fra eserciti, Medioevo, Antichità, Seconda Guerra Mondiale, la guerra del Vietnam è stata una guerra di schermaglie, nelle giungle o comunque veri e propri, c'erano dei plotoni, ma veri e propri armati, eserciti, come della Seconda Guerra Mondiale, con centinaia di uomini, o, mi viene anche in mente, le guerre napoleoniche, non c'erano, quindi comunque è più da schermaglia con il gioco del Vietnam. E anche lì ci sono miniature dei soldati, i Marines, ad esempio, oppure dell'esercito americano, dell'esercito nord vietnamita, e poi tutto il resto che c'era nel mezzo. Quindi, comunque, come avete visto, a schermo 3D breed miniatures, ha tantissime varianti e tantissime ambientazioni, potrete spaziare veramente in tutti i vostri giochi, wargame, ma anche giochi da tavolo, o giochi di ruolo preferiti, con delle miniature con una qualità spettacolare. Quando voi acquistate, a parte che prendiate la versione Tiny, ma quella è una cosa a parte, per l'Epic in 10 mm, quando voi acquistate dal suo sito, automaticamente scaricate il progetto in STL, se comprate una miniatura in 28 e 15 mm, o comunque per la maggior parte. Ad esempio, delle guerre antiche sì, delle guerre medievali sì, dell'West non so se ci sono anche i 15 mm, comunque tanto quando l'acquistate dal sito lo potete vedere. Quando addirittura scaricate qualcosa, delle guerre persiane, potete scaricare, potete stamparli in dimensione 28 mm, Warhammer, vecchio mondo, oppure in dimensione 15 mm, l'Epic della Warlord Games, ad esempio. A noi addirittura hanno fornito, e li ringrazio di cuore, il Joy Nordai One Click Collection, al momento è in offerta, mentre faccio il video, a 180 euro, e ribadisco ragazzi, comprate non le miniature, comprate gli STL, quindi, sì, vi arrivano un centinaio di STL, se non di più, però ve li dovete stampare, o se non avete qualcuno che ve li stampi, cioè se non avete voi la stampante, dovete comunque avere qualcuno che ve li stampi, perché comunque, loro vi mandano soltanto il progetto 3D, e poi siete voi che ve li dovete far stampare, ma ragazzi, la qualità è veramente altissima, ci sono anche pacchettini piccoli, ad esempio, uno potrebbe dire, io voglio fare una partita a saga, mi viene l'esempio più classico, no? Tipo Warhammer, Warcry, vi voglio fare una partita a saga, da una parte gli spartani, e dall'altra parte i persiani, ho bisogno di 30 miniature da una parte, e 30 da un'altra, gli spartani devono essere, opliti, spartani, e i persiani devono essere gli immortali, vi comprate 4 euro, gli spartani, 4 o 5 euro, gli spartani, 5 euro gli opliti, con 10 euro, avete tutte quante le miniature che vi servono, che vi dovete stampare ovviamente, e vi siete fatti le due bande per saga, in 28 mm tra l'altro, questi ad esempio qui davanti sono, come dicevo prima, in 32 mm, questi sono un attimino più grandi, però in questo pledge vi danno 23 pacchetti, e ci sono tutte le miniature, tutte, anche i civili, che vi servono per giocare nel west, o per fare un diorama, volete fare un saloon con una ballerina, ad esempio, con una danzatrice, qualcuno che suona magari al piano, ci sono, addirittura c'è anche il treno, da stampare, ah, più gli edifici in 3D, quindi l'edificio dello sceriffo, il saloon, la banca, e quant'altro, questi sono in 32 mm, vengono forniti, senza l'STL della basetta, quelle ve le dovete trovare voi, quindi voi comprate, quando comprate gli STL, ci sono tutte le miniature, avete i tre pacchetti, io penso, cento e più miniature, sicuramente, però non hanno le basette, quindi quando le andate a stampare, le basette non ci sono, ragazzi, basta googlare un attimino, le abbiamo trovate noi, e le abbiamo stampate, quindi non è che c'è da impazzire, oppure, ci sono in commercio le basette, quelle trasparenti, oppure, secondo link in descrizione, sempre in tutti i video, il negozio di mia moglie, contattatela direttamente, perché facciamo anche stampa di basette, per miniature, per world game, 25 o 32 mm, quindi comunque, se vi servono delle basette, facciamo proprio dei sacchettini a parte, che li vendiamo, anche me ne servono 100, 200, non è un problema, ma si stampano e vi si mandano, quindi quello, contattatela. Poi è bellino quando acquistate, perché sono molto organizzati, se acquistate, ad esempio, il pacchetto del West, dei bounty hunter, vi arrivano tutti quanti gli STL, ovviamente in 32 mm, che dovete stampare, supportati, quindi presupportati, prendete e buttate sulla stampante, è pronto, o non supportati, se invece supporti, li volete mettere voi a mano, perché lo sapete, poi nella stampa 3D, il supporto messo male, non punto, potrebbe rubarti un po' di dettagli, cosa che fortunatamente non è successo, comunque molto minimale, ma mi sembra di no, comunque se non ve la sentite, li stampate voi, ci mettete voi supporti, quindi presupportati o no. Io voglio ringraziare di cuore, per questa collaborazione, 3D Breed Miniatures, per tutta la roba che ci ha fornito, per il pacchettino del West, sicuramente farò altri video, dedicati, anche perché mi piacerebbe farvi vedere, un'intera legione, che c'è mia moglie dietro, che mi fa le facce, e le facce brutte, un'intera legione, di guerrieri, cattivi persiani, che vengono a conquistare, il mondo greco, e dall'altra parte, i popoli liberi, che poi non erano, delle polis greche, pronti con Temistocle, messo in cima, a fronteggiarli, per sconfiggerli, nella battaglia di Salamina, vero? Comunque, posso mangiare il salame? Ha detto non mangiare il salame, quindi niente Salamina, facciamo la battaglia di Maratona, che allora lì va bene, no non corro, ora mi dice, quindi a parte queste cavolate, vi faremo vedere, anche altri video, mi piacerebbe anche mostrarvi, una volta, cosa che non ho mai trattato, sul canale, però è un contesto storico, che a me piace, anche un po' di miniature del Vietnam, non mi dispiacerebbero, però, voi andate sul sito, e l'avete visto, nel corso di questo video qui, insomma, vi ho fatto vedere un po', tutte le scelte che ci sono, e anche un sito fatto bene, quindi anche molto si sa, la mano va da sola col click, cioè, vi di già, vuoi gli spartani clicchi lì, vuoi il medioevo clicchi di là, quindi si gira anche molto bene, e c'è la zona, free download demos, ci sono delle miniature gratuite, qualità altissima, che potete, scaricare gratuitamente, ve le stampate, per avere proprio la prova, del dettaglio, di, della qualità di queste miniature, ragazzi che ripeto, ecco il nostro Mordred, magari leva il sedere, ripeto la qualità, no, ah 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 ah, ti ha bellissimo, no, 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 ribadisco che ci ha interrotto, qui la qualità è veramente altissima, l'unica cosa che vi posso dire, ma è un consiglio mio, è un parere mio, sia chiaro, fate cosa volete, stampate lì mezzo metro, è un parere mio, le miniature dell'antica Grecia e di Roma, sembrano un po' tozze, nel senso, sembra che ci abbiano un po' le gambe corte, rispetto a quest'altro, se vede l'avrà fatto un altro modellatore 3D, non vuol dire brutte, sono stupende, ve le farò vedere, però hanno un po', cioè secondo me si stampano meglio in 15 mm, che non in 28, però, l'ho stampate in tutte e due, sia 28 che in 15, e sono venute discretamente bene, anzi ve lo faccio vedere, fermi, questo è Titus, romano, in 15 mm, e questo è Titus romano in 28, qualità e dettaglio spettacolare, spero che mi si senta, perché sono un po' lontano dal microfono, comunque qualità spettacolare, solo vedete le gambe sono leggermente corte, ecco l'unica cosa, sono un po' corte, ma per il resto è bellissimo, quindi, andateci a dare direttamente un occhio, perché vale da morire, ovvio, volete tutte le miniature che hanno fatto del West, mi arrivano più di 100 e passa miniature, giga e giga di roba da scaricare, a un costo, ma se a voi vi basta, semplicemente prendere 3 unità, e 3 unità, veramente con 30 euro al massimo, vi prendete tutti gli STL, scaricate per una vita intera, poi, oltretutto, le miniature sono anche in multiposa, quindi non sono tutti quanti uguali, capito, nel mezzo magari c'è il generale, c'è il comandante, c'è il capitano, anche le stesse posizioni della fanteria, sono differenti, c'è tutto, anche addirittura, guerre napoleoniche, ci trovate di tutto, per i vostri gusti, in tutte le dimensioni, 28, 15 e 10 mm, quindi per tutti i palati, ancora una volta, grazie a 3D Breed Minatures, ragazzi, andateci a dare un occhio, perché, per la stampa in 3D, io, per quello che ho visto fino a oggi, ci sono altri, ovviamente, siti, o modellatori 3D, che offrono questo servizio, però, per me, per i miei gusti, al momento, sono i migliori, che ho trovato online, e spero di collaborarci anche in futuro, e poi, un'altra cosa, buona, è che i supporti, se fate le miniature presupportate, quando le andate a togliere, con l'acqua calda, vengono via come burro, quindi, proprio sono fatti, non solo hanno messo i supporti, hanno fatto le miniature presupportate, ma le hanno messe anche bene, infatti, non vanno a mangiare, praticamente, nessun dettaglio, come avete visto nel corso del video, dateci un'occhiata, e ragazzi, alla prossima. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!